Buon Natale! Ci sono le renne vere ci sono guastate per strada, c'erano questi signori, forse erano meglio le renne, ma vabbè, questo abbiamo, come siamo qui, allora sbagliamo un po', scusate, renne, tirare, tirare, come si chiamano? Allora, come si chiamano i bambini? Ipaela, Maria, Bambini, Barbara, Barbara! Altri bambini non li vedo! Oh, ce n'è uno! Sono bambini cattivi! Allora, io sono bravo! Allora, ritorno! Allora, due bambini li vedo! Però sono cresciuti, ma per evitare di mangiare! Anche dietro li vedo! Allora, vediamo che cosa diamo! Vediamo se c'è qualcosa di più! Questo è per Mammo Natale! Io ho fatto, arrivederci! Allora, questo è per Martino! Sono io! Marcello! Anche io! Matteo! 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 Poi, ne abbiamo altro per una bambina! Matteo! Ehm... Vabbè! Ehm... Carla! Chiara! Chiara! Karla! Ehm... Cristina! Chiara! Ehm... Chiaretta! Non c'è Chiaretta! C'è Chiaretta! vado a fare Natale vero? Vado a fare Natale! Dillo prima, io pensavo che fosse Natale vero! Vado a fare Natale! Vado a fare Natale! E porca miseria! Francesco e Silvia! Anche Silvia e Francesco! No, se Francesco e Silvia dove stanno? Oli vero, Francesco e Silvia dove stanno? Eh, non lo so! E siamo a fare Natale! E' sempre giustronato! E' sempre giustronato! E' sempre giustronato! Dunque, poi abbiamo Abbiamo per Mamma Nonna Letizia! Oh! Anzi! Poi abbiamo Le rende a che punto sono tanto? Sì, sì, sì Per Milena! L'hai scoperto? Quando l'hai scoperto? Eh, ho visto la forma finta! La sua voce! Poi abbiamo Poi abbiamo ... Vediamo che pò sappiamo! Ma questo sacco lo finisce, no? Sì! E' incazione! che bello che bello Ma noi ci conosciamo due carri! Ora ne abbiamo ancora! Milena! Ha ucciso ancora Milena! No, qui sono delle canote! Catti! Dei canote con le leggi!